La siccità è uno dei fattori limitanti più cruciali per la crescita delle piante sulla terra. È la ragione per cui molte piante non riescono a sopravvivere nel deserto. La siccità, alla pari del gelo, limita il rifornimento di acqua della pianta. Ok, ma qual è il problema se c'è uno scarso rifornimento d'acqua? Allora, le piante non riescono a sopravvivere in condizioni di siccità perché la pressione intercellulare risulta essere troppo bassa per permettere la crescita delle cellule. Infatti, per evitare ulteriori perdite d'acqua, sono obbligate a tenere gli stomi chiusi durante tutto il periodo di siccità. Ma quindi la fotosintesi non è possibile, giusto? Esatto, e un continuo aumento della disidratazione può andare a danneggiare il trasporto d'acqua e di conseguenza anche le cellule vive. Però, le piante sono riuscite a sviluppare molte strategie di adattamento per far fronte a questo tipo di stress. Per esempio, alcune piante sono in grado di sviluppare un esteso sistema radicale, altre invece fanno affidamento a sistemi di trasporto più resistenti, oppure a cuticole più spesse o ad un'efficiente regolazione stomatica. E le piante succulente riescono persino ad accumulare grandi quantità d'acqua all'interno dei loro tessuti. In questa maniera possono tamponare le perdite d'acqua e immagazzinare CO2 per la fotosintesi. Gli stomi vengono aperti solamente durante la notte, quando i tassi di traspirazione sono nettamente inferiori.